Forse un raptus o forse un attacco premeditato alla Germania è sotto shock dopo che uno studente ha sparato all'impazzata contro le persone presenti nell'aula magna dell'Università di Heidelberg. Il bilancio parla di due morti, uno dei quali è l'aggressore che dopo il folle gesto si è tolto la vita, diversi feriti. L'area del campus dell'Ateneo si trova a Neuenemmerfeld, alle porte della città vecchia ed è stato ora completamente blindato dalle forze dell'ordine. Secondo la polizia l'aggressore avrebbe comunque agito da solo senza complici, per cause però ancora da accertare. Heidelberg, circa 160.000 abitanti, si trova nel sud-ovest della Germania, a sud di Francoforte. La sua università è tra le più conosciute del paese. Finora non sono emerse motivazioni di carattere politico-religioso, ma le indagini proseguono senza sosta. Si scava nella vita del giovane uomo, che era in possesso di diverse armi, come hanno dichiarato anche gli agenti di polizia. Kate Brady, Euronews, Berlin.